Nel Cittadellese la polizia locale sarà impegnata anche a Pasqua e Pasquetta a far sì che vengano rispettati i divieti di assembramento e le situazioni che potrebbero mettere a rischio la salute dei cittadini. Numerose le pattuglie in tutti gli otto comuni del distretto, sorvegliata speciale sarà l'area verde del Parco del Brenta, meta abituale di famiglie e comitive. Oltre agli agenti saranno operativi anche dei piloti professionisti dell'aeronautica civile per monitorare con i droni tutta la zona.